Presentazione di SensorMatic SuperTag 4 Questa esclusiva etichetta rigida è disponibile con tecnologia AM o doppia tecnologia AM RFID. Garantisce la massima protezione antifurto, consentendo la visibilità degli articoli con codice prodotto elettronico EPC per la merce etichettata. SuperTag 4 è dotata di una nuova tecnologia brevettata per la protezione delle merci, che migliora in modo significativo la resistenza alla manomissione rispetto alle precedenti generazioni di SuperTag. L'etichetta rigida doppia tecnologia incorpora un sistema RFID ad alta sensibilità che consente di programmare le informazioni specifiche sull'articolo EPC direttamente nell'etichetta, aggiungendo alla protezione una visibilità quasi in tempo reale degli articoli. Questa etichetta contribuisce anche a un'esperienza di acquisto più semplice e fluida nei pagamenti automatizzati con tecnologia RFID. L'etichetta SuperTag 4 è completata da una propria linea di distaccatori elettrici, consentendo così ulteriori analisi dei dati se collegata alla piattaforma Shrink Management as a Service di SensorMatic. Scopri SuperTag 4 da SensorMatic. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.